ciao ragazzi ciao eccomi qui richi non fai più video sei sparito che fine hai fatto è dura è dura qui bisogna incastrarsi facciamo tre miliardi di cose quotidianamente a parte che non sono stato neanche troppo bene negli ultimi giorni febbre raffreddore chi più ne ha più ne metta dolori da tutte le parti c'è in giro un massacro poi sottofondo telegiornale coronavirus minchia questo mondo non è un campo minato di più peggio ma ce la faremo comunque rock and roll domani è il giorno di sanremo se non sbaglio se non vorrei domani che vi devo dire il festival di sanremo non per me oggettivamente non rappresenta il top della musica in italia fine senza troppi giri di parole perché sto sentendo le solite dichiarazioni le solite polemiche le solite puttanate non me ne frega niente non rappresenta il top ma 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 neanche di striscio ci fa incazzare sapere che qualcuno sia lì a sostenere il contrario sì ci fa incazzare sapere che i soldi del canone che paghiamo finiscano lì dentro sì ci fa incazzare la qualità bassa della musica sì ma sapete cosa mi fa incazzare davvero è proprio questa indignazione questa questa voglia di polemizzare di scandalizzarsi cioè lamentarsi e basta non serve a niente non volete vedere sanremo andate a supportare la musica vera quella onesta quella fatta con il cuore date una mano non rompete le palle io mi rivolgo sempre al pubblico sempre al pubblico cioè possibile mai poi fatemi capire come cazzo è possibile qui tutti a contestare qui tutti nessuno guarderà sanremo poi incredibilmente indici alti d'ascolto singoli venduti clip cliccate su youtube cioè come cazzo è possibile vabbè ho già speso troppe parole a parte che il festival è peggiorato negli ultimi anni assolutamente almeno prima c'era qualità nelle canzoni c'erano artisti veri qui la piega è sempre quella in linea con i talent con i tall show insomma è tutto un insieme di cose vabbè parliamo di musica vera disco del giorno basterebbe solo la copertina radio ed ok computer 1997 disco che segna la svolta per la band è un gioiello rivoluzione allo stato puro uno dei lavori più più importanti sicuramente degli ultimi quanti 30 anni sperimentale a manetta ok computer radio ed karma police paranoia d'android no surprise bellissimo let down io adoro quel pezzo ecco nei prossimi giorni scriverò un articolo su questo disco per istantane rock meglio di niente un abbraccio ragazzi subito ok computer e supportate la musica quella vera iscrizione al canale se volete condivisione commenti fate un po quello che volete dai un abbraccio non sto bene per niente dolori dappertutto cazzo 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 ciao ciao